Torniamo a parlare di MotoGP e lo facciamo due giorni dopo per parlare del Gran Premio d'Italia che si è svolto domenica di fatto in contemporanea con il GP di Monaco di Forma Nudo di cui ho già parlato nell'ultimo Racing Podcast di cui parlerò stasera in diretta sul canale Twitch di Fable Pendragon o Jake se preferite per un doppio commento in realtà tra Monaco e Barcellona stasera mi raccomando ore 22. Ma oggi alle ore 19 parliamo di quello che è successo appunto tra MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE al circuito toscano di Scarperie e San Piero che ha regalato una grande vittoria per la Ducati e probabilmente anche un modello riaperto e tra poco vedremo anche la classifica nonché delle vittorie di classifica e molto importanti sia per quanto riguarda le categorie di contorno. Ma partiamo come al solito dalla classe regina e celebriamo la seconda vittoria in tre gare di Francesco Bagnaia che si riscatta dopo la prestazione opaca dell'ultima gara e torna a vincere una gara letteralmente comunque giocata all'attacco perché partendo al quinto posto dalla qualificazione poi Bagnaia è riuscito a imprimere un passo che gli altri contendere evidentemente non avevano e di fatto ha vinto con un discreto margine su due piloti che hanno comunque fatto anche a loro volta una grande gara. Ovvero il francese Fabio Quartarò su Yamaha ufficiale e lo spagnolo Aleix Spargarò su Aprilio ufficiale. È un Bagnaia che appunto rimedia alla prestazione opaca di Le Mans dando dimostrazione che su questa pista la Ducati e lui in particolare erano di fatto il pacchetto da battere. La Ducati in generale aveva fatto una grandiosa prova in qualificazione piazzano addirittura 5 nelle prime 5 posizioni con addirittura però come spesso accade i team clienti che vanno meglio delle Ducati ufficiali. Ducati ufficiali però che si sono riscattati quantomeno con Bagnaia, Miller invece no ma comunque il pilota piemontese è riuscito a triumfare nel Gran Premio di casa ed è una vittoria fondamentale per un campionato di Bagnaia che va detto è per la verità molto ma molto altalenante. Quindi è ancora presto per parlare di probabilmente il mondiale riaperto ma se il rendimento di Bagnaia fosse questo tutte le gare di certo parleremmo di un mondiale totalmente diverso. Da tifuso della Ducati sono molto contento per la vittoria di Bagnaia che ha dimostrato in questo contesto e con la giusta mentalità evidentemente di essere il pilota da battere va detto che secondo me in realtà i piloti da battere per quanto riguarda il titolo del mondo sono quelli che sono finiti sul podio insieme al pilota piemontese perché al secondo posto si è piazzato Fabio Quartaro con questa Yamaha che è sempre più in difficoltà in generale lo vedremo poi per i piazzamenti dei vari piloti oltre il pilota francese ma è evidente come Quartaro faccia un po' il Marquez delle onda dell'anno scorso. Ovvero con una moto inferiore il pilota francese riesce comunque a pezzarla in un modo o nell'altro e qui riesce a portare fuori una seconda posizione che secondo me vale come una vittoria. Mi immagino Quartaro che al box Yamaha stava stappando quello buono dopo il podio perché partendo sesto con 5 Ducati davanti a tutti che erano di fatto le moto migliori su questa pista arrivare sul podio è veramente clamoroso così come è clamoroso appunto da un certo punto di vista che le Ducati ne abbia passata solo una sul podio perché il terzo classificato è Aleix Spargaro con una priglia sempre più guardata tecnicamente e attenzione perché Aleix Spargaro come vedremo nella classifica del mondiale è il secondo addirittura in assoluto dietro appunto a Quartaro. Spargaro, Bastianini che comunque era un altro che era in lotta per il mondiale ovviamente a punti io non lo ritengo ancora una volta un titolo del mondo contendente diciamo così Bastianini per usare un termine orrendo ma per farsi capire perché comunque ricordiamo il correre con un team clienti è evidente come le ufficiali abbiano qualcosa in più ed è bello vedere comunque tre case diverse sul podio in questa gara del Mugello con Ducati prima Yamaha seconda e aprile terzo ma attenzione perché se Bagnaia continuano così è evidente che si possa rilanciare. Certo il distacco non è propriamente ridotto perché parliamo praticamente di 40 punti ma è comunque una vittoria che fa piacere per il piota piemontese che appunto fa risuonare anche una volta il canto degli italiani il nostro inno nazionale per un Bagnaia che appunto come dicevamo prima vince. La seconda competizione nelle ultime tre c'è lo zero disastroso in realtà di Le Mans che appunto condiziona un po' questo rendimento altalenante del piota piemontese che ricordiamo è partito molto a handicap visto il ritiro e il 15 post in Indonesia e solo per quello parliamo di 81 punti. Quarto assoluto in questo mondiale con un Quartarò che seconda posizione in gara ma leadership del mondiale è un mondiale comunque molto aperto perché appunto il terzo classificato di domenica ovvero Alessio Spargarò è secondo assoluto a soltanto 8 punti dal francese Quartarò e già questa settimana si corre a Barcellona dove appunto ha già corso anche la Formula 1. Terzo rimane Enea Bastianini che comunque si è ritirato è vero che Bastianini ha vinto più gare di tutti ma oggi era comunque destinato a una gara abbastanza in colore stava venendo comunque su abbastanza bene ma per me non avrebbe avuto i mezzi per rottarne per il podio quando poi è caduto di fatto alla curva 4 Bastianini era in zona sesta settima posizione è un team di Bastianini che comunque si ritrova perché ha fatto la pole position anche in questa gara con il sorprendente Fabio di Gian Antonio è comunque un Bastianini che dovrà provare a difendersi nelle prossime gare alla lunga ripeto non lo vedo come contender per il titolo del mondo perché secondo me in generale Bagnaia e Spargarò e Quartarolo hanno dimostrato di avere ovviamente dei mezzi superiori a Bastianini ma comunque anche avere una mentalità e una capacità superiore magari in alcuni contesti più di limitare i danni quando serve Bastianini invece in questo rendimento è molto da tutto niente tre vittorie sì ma due zeri e poi piazzamenti abbastanza anonimi quando invece per il titolo del mondo servono piazzamenti più costanti vedi per esempio il buon Arash e Spargarò che ha fatto quattro podi consecutivi e sono quattro appunto terzi posti oltre la grande vittoria di Argentina. Gli altri piazzamenti per la Ducati che comunque le piazza una marea nelle prime dieci posizioni con Johan Sarko che finisce quarto con la migliore delle Ducati Pramac, Ducati Pramac che peraltro va il record assoluto di velocità con Jorge Martín registrato al Mugello a 363,3 km orari qualcosa di clamoroso. Invece per quanto riguarda le altre posizioni abbiamo una bellissima quinta posizione per Marco Bezzecchi sicuramente una delle grandi sorprese della gara del Mugello dove in realtà tutti gli italiani di seconda fascia mi verrebbe da dire quindi i vari Luca Marini, Fabio di Gian Antonio, lo stesso Bezzecchi che è un rookie in questo campionato hanno dimostrato che su questo contesto erano veramente dei piloti non dico da battere ma comunque che potevano dare fastidio in generale a tutta la concorrenza. E' il quinto posto di Bezzecchi nella chiara dimostrazione quindi grande prestazione per il pilota romagnolo del team Sky VR46. Sesto per quanto riguarda la grande Mugello e il suo compagno di squadra Luca Marini segno che appunto in questo contesto il team di Valentino Rossi ha fatto molto molto bene ed è in parte anche il riscatto del fratellastro di Valentino ovvero Luca Marini dopo una stagione e mezza per ora molto anonima. Mi aspetto il team VR46 molto competitivo anche a Misano, altro contesto che il team marchigiano appunto conosce molto molto bene. Settimo è Brad Binder con la KTM che ha fatto bene col sudafricano ma molto male con Miguel Oliveira autorevo di una gara molto anonima. Ottavo è Takahaki Nakagami con la migliore delle onda, una onda che appunto perderà Mark Marquez che dovrà rioperarsi al braccio che ha subito il grande infortunio ARS nel 2020. Nono appunto Miguel Oliveira che è stato battuto in realtà nel suo compagno di squadra. Brad Binder decimo invece è quel Mark Marquez che come dicevo prima dopo il Mugello si fermerà. Vedremo probabilmente Stefan Bradel al posto dello spagnolo. Non aspetteremo ovviamente dei rendimenti clamorosi da parte del tedesco però la notizia fondamentale è che probabilmente l'unico vero campione fatto e finito di questa MotoGP è evidente che dovrà fermarsi dire addio alle pochissime chance che aveva già in questo mondiale evidentemente di tornare a vincere e provare a centrare il settimo titolo in classe regina. È un Marquez che si dovrà operare e dunque lo attendiamo ovviamente in pienissima forma evidentemente nei prossimi Gran Premi. Per un mondiale MotoGP che nonostante appunto questa vittoria di Bagnaia non lo rilancia totalmente in lotta per il mondiale quanto meno da adesso, bisognerebbe vedere poi il bilancio tra due o tre gare, è ancora più evidente come sia molto equilibrato perché abbiamo visto tante vincitori diversi, tante case costruttrici diverse che si inseriscono nella lotta per il podium abbiamo visto che comunque secondo me i due go-to-guy sono Quartarò e il sorprendente l'esce Spargarò per un'apriglia che ha poi rinnovato sia Vignales sia lo stesso Spargarò. La notizia poi più importante in realtà del moto mondiale è che la Suzuki si riterrerà al termine di questa stagione che evidentemente è anonima ancora una volta con i due Alfieri, ovvero Rins e Mir a sto giro ritirati ed è un peccato però perché ricordiamo che la Suzuki ha vinto un mondiale, è vero, è una stagione corta a causa Covid ma in tempi molto recenti perché parliamo del mondiale di Hoamir nel 2020. Altra notizia in generale del moto del moto mondiale è che il team RNF che adesso schiera in la Yamaha quindi con Brad Bender, o meglio Darren Bender e Andrade Obizioso passerà ad aprire dunque finalmente la casa di Nuova avrà un team satellite. Invece per quanto riguarda gli altri piazzamenti delle varie categorie e degli altri in Italia andiamo verocimente ad elencarli, parliamo di questo Fabio di Gian Antonio che mi ha veramente sorpreso, Fabio di Gian Antonio per me è il rider del giorno perché in correlazione alla moto che ha ha fatto una gara veramente suntuosa è una clamorosa proposition quella che si è portata a casa del pilota romano che anche lui è un esordiente assoluto in questa categoria non ci si poteva aspettare evidentemente nulla di più di quello che ha fatto in gara perché era destinato il 49 a fare un po' la gara del gambero va detto però che comunque partire dalla pole al Mugelli in un tribù di Ducati è veramente qualcosa di sorprendente dunque a differenza magari di Bagnaia che ha fatto una gara è vero molto bella ma comunque con un mezzo decisamente superiore in proporzione di Gian Antonio già solo per la pole position del sabato per me si merita il rider del giorno. Gli altri piazzamenti degli italiani andiamo a vedere anche in ordine di classifica del mondiale Franco Morbidelli finisce 17esimo una volta fuori dalla zona punti delusione evidentemente anche oggi per Morbidelli ventesimo Andrea Dovizioso fuori dai punti anche la wild card della Ducati ovvero Michele Pirro che in realtà era in lotta con i vari Vignales Jack Miller e anche le altre motoclienti per i piazzamenti in zona punti c'è andato veramente vicino il buon Michele Pirro che finisce 18esimo ventiduesimo invece Lorenzo Salvadori terza va il caso zonale invece per il collegatore Aprilia che anche lui in questo caso fa una gara comunque in linea con la terza moto della casa di Nuale la divisione del giorno comunque non è nei piloti italiani che ho appena citato ma è evidentemente in Jack Miller perché con la Ducati ufficiale che ha evidentemente dimostrato di essere molto importante in questo contesto del Mugello fare quindicesimo è veramente una cosa che grida vendetta su Miller va detto ci sono grandi voci di mercato che non lo vogliano evidentemente in Ducati il prossimo anno e visti questi risultati probabilmente avrebbero anche ragione perché in un contesto dove la Ducati schiera 5 moto nelle prime 5 posizioni e nessuna delle 5 è Jack Miller è evidente che qualcosa non va e probabilmente è il pilota australiano ci sono voci che lo vogliono in KTM l'anno prossimo vedremo se questa voce si confermerà comunque Miller è evidente che non sta rendendo come magari ha reso l'anno scorso che è vero aveva qualche acuto qui e lì ma anche Miller diciamo non è un mostro di costanza un po' come Bagnaia che è vero è partito handicap Bagnaia però ha la tendenza a migliorare un sacco nella seconda parte di stagione così come è capitato lo scorso anno e speriamo sia così per il nostro portacolori e per il portacolori della Ducati partiamo adesso dalle altre categorie in particolare di Moto2, Moto3 e MotoE con una Moto2 che torna ad avere un vincitore molto importante e quel vincitore è Pedro Acosta che è stato il grande dominatore della Moto3 dello scorso anno un pilota veramente talentosissimo che questa volta non è caduto come Alemando dove era solo in testa qui fa di fatto la gara fotocopia del circuito Bugatti e riesce addirittura a vincere la prima gara della carriera un po' in ritardo mi verrebbe da dire perché Acosta è veramente un gran talento eppure faceva ancora fatica a emergere in questa Moto2 che è veramente un'altra categoria rispetto alla Moto3 che dominava di conseguenza ci è voluto un po' ci sono volute otto gare in particolare ma finalmente per il 51 suona la marcia reale da qui può partire il mondiale di Pedro Acosta di certo non per vincerlo ma per essere uno spoiler in vista magari di un titolo del mondo il prossimo anno seconda posizione per l'americano Joe Roberts che fa il secondo podio stagionale dopo la grande vittoria di Portimao e terzo è Ayugura che di fatto si issa al primo post ex equo in questo mondiale sarebbe secondo in realtà per i piazzamenti ma comunque Ayugura sfrutta al massimo la caduta del leader del mondiale ovvero il nostro Celestino Vietti che di fatto per problema tecnico deve evidentemente abdicare a tre giri dalla fine dopo che evidentemente è stato un altro incidente molto importante quello di Sam Lowes steso da Tony Arbolino peraltro Arbolino verrà penalizzato e per questo finirà giù dal podio altrimenti potremmo parlare di un italiano sicuramente sul podio Vietti e Ayugura sono evidentemente i primi ex equo in un mondiale Moto2 molto molto equilibrato peccato per Vietti che comunque avrà modo di rifarsi in quel di Catalogna in una gara della Moto2 che in realtà Acosta ha preso e ha salutato per una vittoria assolutamente meritata e attenzione già il prossimo weekend o meglio questo che viene per il 51 che potrebbe essere un'altra carta da podio molto ma molto importante velocemente passiamo anche alla Moto3 in una gara che alla fine è il solito macello è la solita volata ma ancora una volta abbiamo un vincitore indiscusso ovvero il leader del mondiale Sergio Garcia che è molto sorgnone nei primi due terzi di gara alla fine dalla zampata vincente in fondo alla meglio del suo compagno di squadra in realtà quella di Garcia è una vittoria postma perché sul traguardo avrebbe vinto Isan Guevara sempre per Gas Gas che avrebbe comunque fatto doppietta ma evidentemente per una penalizzazione dovuta ad aver ecceduto troppi limiti della pista Guevara viene penalizzato e di conseguenza si scambia le posizioni di due riferie del team Gas Gas che sono sicuramente gli uomini da battere e di conseguenza è vittoria per Sergio Garcia la terza in questa stagione e ancora una volta suona la marcia reale 137 punti per Garcia 109 per Isan Guevara che finisce secondo terza posizione invece per Tazuki Suzuki che fa il primo podio con il nuovo team Suzuki è passato da team 6-58 quadra corse a team Leopard che è un team vincente l'abbiamo visto comunque con Foggia e nel corso degli anni anche con i campioni del mondo che ha suonato in questa categoria è un podio molto importante perché comunque salva la gara del team Leopard perché vede Foggia in realtà ritirarsi il nostro italiano più competitivo dopo che di fatto era in testa con un minimo di margine di vantaggio però anche lui deve cadere e di conseguenza un po' abdica in questa gara che avrebbe potuto rilanciarlo magari in zona più importante di questa classifica del mondiale che vede comunque un altro zero importante quello di Raume Masia e di conseguenza l'italiano e lo spagnolo sono terzi ex equo in un mondiale che però sembra vagamente indirizzato comunque verso il team Gas Gas verso dunque un duello spagnolo tra Garcia e Guevara ma attenzione la Moto3 è un campionato molto molto lungo e ogni gara può succedere veramente la qualunque dunque vedremo già a Barcellona cosa succederà a Barcellona invece non correrà la MotoE che farà una pausa prima di tornare ad Assen una MotoE che vede anche una volta Dominic Gerter che è anche il leader del mondiale del supersport in testa alla classifica della Coppa del Mondo con una vittoria peraltro in gara 1 sabato pomeriggio per cui suona il Salmo Svizzero seconda posizione in gara 1 per Matteo Ferrari che avrà modo di vincere anche gara 2 terzo sarebbe stato Andrea Mantovani ma finisce invece Eric Granado Mantovani avrebbe finito dunque a podio in una gara suntuosa per il pilota veleto ma appunto viene squalificato per un'irregolarità e di conseguenza c'è podio per Granado che è secondo nella Coppa del Mondo Granado però non avrà modo di confermare questo podio in gara 2 perché Mantovani gli finirà davanti con una grande sesta posizione ma vince Matteo Ferrari per il quale suona il canto degli italiani dunque il doppio in italiano nella gara della domenica secondo è Dominic Gerter che da grande esperto di questa categoria ha la media dei suoi diretti avversari c'è una grandissima volata a 3 per la posizione da podio e alla fine la perda è Michael Pons che finisce a quarto c'è il primo podio in Moto E per Mark Alcova che è stato spagnolo molto giovane che l'anno scorso era nel Mondiale Supersport peccato veramente per Andrea Mantovani che avrebbe coronato il primo podio della carriera in Moto 3 lui che è un piatto sostituto lui in teoria appunto non doveva correre questa Coppa del Mondo ma Bradley Smith si è infortunato e da due gare è arrivato Andrea Mantovani che ha fatto gare in crescendo sia a Le Mans che qui vedremo se sarà rientrato Bradley Smith ad Assen oppure se sarà spazio per il grande pilotamento gli altri italiani di questa categoria Nicolo Canepa finisce sesto e quinto Mattia Casadei cade purtroppo al primo giro di gara 2 ma finisce quarto in gara 1 potrebbe essere con un'altra carta da podio l'ex pilota del team c'è in 58 squadra a corsa adesso in forza al team Pons Kevin Manfredi finisce decimo e nono al troppo da Super Sport Alessio Finello punti per lui 13esima e 14esima posizione è stato poi il debutto del pluricampione super sport italiano ovvero Massimo Roccoli che a 38 anni si toglie il lusso di esordire in questa nuova categoria la Moto E e fa due gare a punti 15esimo e 11esimo solita parenti su Maria Herrera punti solo per una gara per la pilota spagnola 15esima posizione per una stagione che comunque non è all'altezza delle aspettative certo da Maria Herrera non si aspetti la vittoria però un piazzamento più alto di questi 15esimi post sicuramente potrebbe essere più interessante questo per un Racing Podcast è molto completo dalle quattro categorie che hanno corso al Mugello a questa domenica ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che abbiamo raccontato in questo Racing Podcast ricordo questa sera alle ore 22 la diretta col Fabione per quanto riguarda il Gran Premio di Monaco e il Gran Premio di Spagna ci sarà poi anche il Gran Premio o meglio l'appuntamento con la MLB Review probabilmente verso fine settimana o al massimo dal 12 giugno in avanti e poi Racing Podcast per quanto riguarda evidentemente la MotoGP Gran Premio di Barcellona il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti